2 febbraio 1861. Nasce a Filadelfia Solomon Robert Guggenheim, che dopo brillanti studi in Svizzera, costruisce un impero sulle miniere aurifere di famiglia. Nel 1937 Guggenheim fonda la Solomon Guggenheim Foundation, con lo scopo di preservare e sostenere l'arte moderna. Muore il 3 novembre del 1949. Oggi i musei Guggenheim attivi nel mondo sono quattro, fra cui quello di Venezia, il Peggy Guggenheim.